Portare Granarolo in Molise è un'idea che potrebbe diventare realtà. Gli affari di una delle aziende leader italiane potrebbero intersecarsi con la nostra regione. Ne è convinto il senatore, capogruppo del PD nella Commissione Agricoltura, Roberto Ruta, che insieme agli assessori regionali Facciolla e Scarabeo, ha incontrato i vertici proprio della Granarolo a Bologna per discutere di far approdare in Molise il progetto GranMans. In sostanza creare un insediamento vicino la costa, come richiesto su 100 ettari per ospitare mucche, che rientra nell'obiettivo dell'azienda di raddoppiare il suo fatturato a un miliardo e mezzo di euro. 18 milioni di euro di investimento, 12 mila capi di bestiame che sono mucche e che possono essere allocate nella nostra regione. Queste mucche, le vitelle, giovani, vengono nel Molise, stanno qui, stazionano per circa due anni, due anni e mezzo, vengono riportate poi agli allevatori nelle stalle in Italia e ovunque vengono raccolte e questo è un luogo dove loro stazionano, crescono, mangiano, bevono e svolgono una parte della loro esistenza qui in Molise. E c'è un ricambio continuo ovviamente di mucche. Il progetto però vede già in pole position la Puglia, ma Ruta ha prospettato alla Granarolo la realtà molisana come salutare per le mucche più vicine a Bologna. Entro il 12 giugno i vertici dell'azienda verranno in Molise a visionare i tre siti individuati. L'idea del senatore è di risollevare diverse filiere locali, della zootecnia ovviamente, quella dello zucchero facendo usare come mangime gli scarti della barbabietola, quella dell'agricoltura coinvolgendo produttori di fieno che verrebbe dato alle mucche, così come ha voluto sottolineare l'importanza della produzione di letame come fertilizzante. Ed essendo vicini alla costa, il progetto potrebbe dare spinta anche ad altri settori come la pesca produttiva. Insomma l'idea è innescare un meccanismo per smuovere l'economia locale. Ma l'asso Ruta lo ha calato coinvolgendo la Granarolo nel discorso della filiera avicola alla quale l'azienda è interessata prospettando la situazione della Solagrital. Granarolo già vende anche uova ma è interessata a ampliare i suoi asset produttivi anche molto interessata a quella vicenda pollo e questo è quindi carni bianche e pollo. Questo ovviamente significa per noi un'altra opportunità come quella dei prodotti di alta e altissima qualità che riguarda ovviamente la parte del Molise che riesce a produrre generi alimentari di altissima qualità come l'Alto Molise.